Uè bello, bello? Dico a te, sì sì Intanto cominci a lasciare like perché ti darò una notizia bruttissima però voglio almeno essere consolato Quindi un bel like e beccati il video perché ragazzi è successa una cosa bruttissima Hola a tutti ragazzi, mi sono il vostro Luke e oggi siamo qui in questo nuovissimo video Finalmente tornati solo Pilaghi Pryson di TheLagentCraft Ebbene sì ragazzi siamo tornati qui dopo un bel po' di tempo che non recavo e devo chiedervi scusa Però ragazzi per chi mi ha seguito anche con una live che ho fatto ho appunto formattato il mio computer Quindi sono stato abbastanza inattivo perché devo registrare, settare tutto, riscaricare tutti i programmi Ed è stata abbastanza una cosa impegnativa con la mia connessione ultra cinese con il crescito che gira Detto questo ragazzi volevo dirvi che è successa una cosa bruttissima Però se non lasciate like non ve la dico mi dispiace Ok ragazzi devo fare lo strunz No ragazzi a parte di scherzi comunque vi invito a lasciare like perché vedo che state portando avanti la serie solo voi con questi like Più ne vedo, più condivisioni vedo e più la porterò avanti volentieri L'unico rammarico ragazzi che proprio in questo momento in cui avevo cominciato di nuovo a fare video in cui scavavo eccetera Da farli un po' in modo diverso ho perso una cosa che a me mi era molto cara Vediamo un po' se indovinate, io vi faccio vedere una cosa e voi mi dite Cazzo nooo Eccolo qua ragazzi Voi direte Luke ma che c'è state male uh Minchia c'è il piccone del boia Sa ma scherzare efficienza 25, unbreaking 25 e fortuna 10 Ah ragazzi ma scusate no, davvero è tutto Ma qualcuno davvero non se ne è accorto di quello che è successo Raga ho perso il mio piccone kit serial killer con excavation 2 E' una cosa orribile ragazzi E' vero che il kit boia questo qui che c'ho in mano bello grosso Sembra una cosa brutta quello che ho detto E' con efficienza maggiore e tutto quello che volete Raga ma la differenza più grande è l'escavation Per chi non lo sa l'escavation diciamo ha un rage di blocchi che rompe attorno al blocco che rompi Si sono stato molto articolato come spiegatore Che non significa nulla raga ma voi shh Comunque detto questa stupidaggine raga L'escavation ovviamente mi mancherà moltissimo E ho intenzione ragazzi di farmi token L'unico problema più grande sapete qual è? E' questo che ho 92 token Però in teoria per il fatto che ho inviato i miei video su forum Dovrei ricevere all'incirca 800-900 token Adesso non ricordo bene Solo che non mi sono stati assegnati non so per quale motivo E ho contattato lo staff Lo staff mi ha detto vabbè ci sarà stato un errore Ma di conseguenza non me li ha nemmeno dati per adesso Però ragazzi è passato già due settimane Che devo aspettare ancora Quindi magari invio un'altra segnalazione allo staff Così magari me li danno Sapete com'è in questo momento Mi servono giusto un pochettino eh Devo rifarmi tutto l'escavation E un'altra cosa raga Mi dispiace che ultimamente cercavo di eseguire i vostri consigli Possiamo vedere qualche regalo E poi scavare Fare quello E scavare Adesso raga Scavare non posso Fino a che non riusciamo a farci di nuovo il picca Magari potrei iniziare anche una serie In cui appunto C'è una serie nella serie Nel senso Inizio una raw add to Escavation 2 Nella serie OP Lucky Prison Quindi dedicheremo tutti i video Nel farmare Magari con il Lucky Block Una volta rompendo blocchi Viene ad arrivare Al famoso Escavation 2 Che ragazzi La cosa più bella e divertente Che c'è sta poco da ridere effettivamente È che io puntavo a farmi l'auto sell Sul piccone Il problema ragazzi Sapete quale è? Appunto questo Ho perso tutto il piccone E perché raga? Perché Quando hanno rifatti i plot Cosa che ancora non avevo detto Sono entrato nel server il giorno dopo E sono caduto Da una certa altezza diciamo E sono morto brutalmente In questo modo ragazzi Ho perso il piccone E il problema più grande Non so neanche se offrono Diciamo tra virgolette Un risarcimento allo staff Se te lo ridanno Ma dubito fortemente Perché raga Non lo so Penso proprio di no Quindi l'ho perso per colpa Di un bug Ed è la cosa più fastidiosa Perché se per sbaglio Lo butto con la Q Ok Lì sono imbecille io Però per colpa del bug Raga Mi c'è inchezzo un pochettino Detto questo ragazzi Come avete visto Non c'è stato nei commenti del giorno Nelle altre novità Perché appunto Un mini video Per annunciarvi Questa brutta scomparsa Nel mio amico Piccone Kit serial killer Detto questo ragazzi Spero che comunque Il video vi sia piaciuto Vi invito a lasciare like Adesso Tra qualche giorno Non so se giorno sì O giorno no Caricherò la skygrid Quindi non vi preoccupate Che ritornerà Anch'essa Ci becchiamo al prossimo video Lasciate like Commentate Condividete Ma soprattutto Iscrivetevi al canale Ci becchiamo alla prossima E Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Grazie.